Io penso di aver trovato forse due o tre donne a cercare tartufi tutto il tempo e le difficoltà sono enormi. Se fosse una persona per compagnia però quando inizia a essere concorrente veramente cambia tutto. Sono iniziata a cercare tartufi perché mi sono separata, divorziata dal mio ex marito che avevamo comprato un potere qui vicino, era un tedesco e aveva i due bambini piccoli e abitavo proprio qui. La possibilità di gestire i miei figli che erano piccoli e guadagnare qualcosa per me è diventata solo di andare a cercare tartufi perché se no dovevo scegliere di andare a abitare una città grande che non mi piaceva, volevo farle crescere qui in campagna. Sono l'unica che ha subito anche tanti torti da questi uomini. Per esempio sono l'unica persona nella storia che è stata buttata fuori da un'associazione di tartufai. L'unica. All'inizio è ben accetta ma se inizi a trovare tartufi allora è la fine.